ciao a tutti e bentornati sul mio canale di c trading oggi parliamo dei ritracciamenti di fibonacci uno strumento che utilizzo molto spesso nei miei grafici di analisi tecnica e che vi farò vedere adesso come funziona per chi non sapesse già come funziona il tutto e poi parliamo un pochino di bitcoin del nasdaq del petrolio di dell'oro e un po dei mercati ok allora andiamo subito a vedere sul nasdaq ad esempio come funzionano i ritracciamenti i livelli di fibonacci qui siamo sul 4 ore andiamo sul giornaliero così vediamo subito qualche esempio allora guardate qua come vedete il nasdaq in questi ultimi periodi mesi anni ha avuto sempre un andamento molto altanerante su altanerante scusate su giù su e giù su e giù ora prendiamo lo strumento di fibonacci questa è la piattaforma di trading view che io uso per le mie analisi ma ne uso anche altre non è l'unica prendiamo il ritracciamento di fibonacci tracciamo i livelli di fibonacci servono per misurare resistenze e supporti ok generalmente si prende in esame un punto minimo è un punto massimo del grafico che sia in alto che sia in basso dipende come lo volete misurare e si va a cercare di vedere come sia come si comportano i livelli quindi prendiamo da un punto minimo questo prendiamo questo esempio qua e andiamo a un punto massimo qua sopra vedete di questo determinato periodo andiamo un pochino portiamolo qua ok perfetto allora cosa ci dicono i livelli statisticamente i livelli di fibonacci dicono che fatto preso un punto di partenza e un punto di arrivo i livelli di ritracciamento che possono andare statisticamente da 38 e 2 a 61 e 8 vi faccio vedere un attimino qui ve lo faccio vedere un pochino più ingrandito se riesco eccolo qua oggi ho delle difficoltà a manovrare questo mouse ok vi fanno vedere i livelli statisticamente vi dicevo i livelli di fibonacci ci dicono che tra 38 e 2 a 61 e 8 noi possiamo misurare supporti e resistenze sotto il livello 0 qua ci sono le estensioni di cui poi magari parleremo anche un altro momento ora prendendo un esempio ad esempio scusate sarò anche un po di slessico oggi prendendo ad esempio questo particolare periodo qua possiamo dire che da questo punto in basso fino a questo punto in alto il grafico ci dice che ha cominciato a ritracciare fino ad arrivare guardate esattamente a livello 38 e 2 più o meno guardate livello 38 e 2 qui il grafico è arrivato qua e poi è rimbalzato vedete allora questo è molto utile perché per chi fa trading perché perché statisticamente ci permette di capire tracciando magari un'area tipo tipo questa qua prendiamo un rettangolo così che in questa area qua ci si può aspettare che il grafico torni indietro si comporti in maniera diversa ora qui è successo esattamente così guardate andato a cercare andato a toccare poco sotto il 38 e 2 è ripartito ora dovete proprio capire anche che non bastano i livelli di fibonacci per misurare supporti e resistenza questo è stato un supporto vedete ma serve anche andare a vedere graficamente cosa è successo nello storico ora perché era lecito attendersi che da qui potesse esserci un rimbalzo perché guardate qua questo livello qua lo ha già sentito vedete questo questa misura ci ha già andato a toccare una volta e poi ripartito e quindi era lecito attendersi che questo livello qua se lo facciamo con una riga in questo modo potesse fungere da supporto posso capire che il discorso è un po complicato è però piano piano vedete con l'esperienza man mano che seguirete i video poi comincerete a prenderci una certa dimistichezza adesso cancelliamo un attimino questi segni qua che sono anche un po scomodi da vedere e andiamo a vedere invece torniamo sul livello eccolo qua e andiamo a vedere il grafico del nasdaq come l'ho detto ieri per me il nasdaq è un termometro dei mercati perché altamente è molto più volatile degli altri indici e quindi mi permette di capire un po meglio come intendono muoversi i mercati allora cosa vi avevo detto ieri ieri vi avevo detto che il nasdaq se chiudeva sotto i 9000 in serata ci si poteva attendere una discesa abbastanza profonda e così è stato siamo andati a toccare guardate ieri sera 8800 e stamattina siamo andati a toccare 8007 guardate qua adesso sembra che stia rimbalzando un pochino vedete sembra che stia rimbalzando ma non è detto che questo rimbalzo sia reale già ieri sera aveva tentato un rimbalzo simile e poi dopo di che invece era andato a collassare del 2 per cento quindi anche qui bisogna fare molta attenzione per il momento il mercato è ancora molto instabile finché si va dietro a questa buffonata del coronavirus io ve lo ribadisco per me è una grandissima buffonata i mercati ne approfittano gli speculatori faranno man bassa dei pesci che cercano di salvarsi però didatticamente possiamo andare a vederci un attimo il ritracciamento di Fibonacci proprio qua andiamo a misurare qui guardate dal punto più in basso da cui è partito andiamo qua su al punto più in alto e guardate un po il livello 38,2 cade qui e il livello 61,8 cade più o meno qua esattamente e io avevo tracciato quest'area qua come di interesse perché perché qui avevo già messo una resistenza anzi un supporto guardate perché ho messo un supporto qua e perché ho messo una resistenza e un altro supporto qui adesso in genere io segno i supporti in verde e la resistenza in rosso questo qua è stato un errore ovviamente non essere rosso ma è verde ok perché ho segnato queste righe pur non avendo tracciato Fibonacci perché ho guardato i rimbalzi guardate qui se lo andiamo a vedere adesso togliamo un attimino ha insistito di nuovo poi pam di nuovo è rimbalzato ed è andato su e poi è andato qui ha trovato uno due tre quattro volte a rimbalzare su questo supporto ed è ripartito e la stessa cosa ha fatto di qua e così via e come vedete ieri è venuto giù è venuto giù è venuto giù l'altro giorno è rimbalzato sui 9000 è tornato su poi è tornato giù di nuovo è rimbalzato qui su 8800 dove siamo a livello 31,8 di Fibonacci e poi è andato giù stamattina è arrivato su questo supporto qua che avevo segnato su cui ho purtroppo fatto un errore di valutazione ho impostato un ordine di acquisto a 8700 invece si è fermato leggermente prima l'ordine non è entrato pazienza non fa niente ci saranno altre occasioni da qua adesso è ripartito siamo a 8880 quindi sembra che il future ci stia dicendo che sarà un recupero io non mi fiderei troppo di questo recupero che ieri lo stesso recupero l'ha fatto nello stesso lasso di tempo e poi dopo di che è crollato del 2% quindi occhio alla volatilità dei mercati in questo momento i mercati sono molto pericolosi fate molta 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 attenzione per cui tornando sul ritracciamento di Fibonacci lo ridisegniamo eccolo qua lo rimettiamo qua scusate eccoci qua lo portiamo fino a qui come vedete ok statisticamente diciamo i livelli su cui possiamo attenderci il ritracciamento del Nasdaq che sono tra 38 e 2 e 61 e 8 che sono esattamente qui dentro quest'area qua ora speriamo che non arrivi più sotto di qui ma speriamo che si fermi qua e questo sarà molto molto difficile saremo a vedere tuttavia se così fosse è probabile che da 8003 potremmo assistere a un nuovo recupero nel caso dovesse rompere anche questo supporto qua 8007 ma ripeto in questo momento i mercati sono molto volatili sono abbastanza complicato fare delle ipotesi ma il grafico e un po' di analisi ci aiuta sicuramente a capire come può funzionare il tutto diamo un'occhiata un attimo all'oro l'oro è ripartito come vedete in pompa magna dopo che ieri era sceso di nuovo qui ci sono state delle prese di profitto abbastanza ampie qui in questo momento vorrei risalito e quindi ci sarà da attendere potrei aspettarmi di rivedere l'oro intorno ai 1680 probabilmente potrebbe esserci una nuova salita il petrolio è sceso e è tornato a 49,50 esattamente qui dove l'ho segnato io guardate questo supporto qua è molto interessante perché l'ha toccato 1, 2 e oggi la terza volta e qui ho messo un ordine di acquisto occhio nessuno deve fare operazioni finanziarie su questi miei video sono le mie ipotesi che vi sto condividendo le mie idee ho messo un ordine di acquisto qua ma non è detto che il petrolio torni su potrebbe continuare a scendere perché il mercato finché è ribassista il petrolio sente sempre il ribasso quindi molta attenzione non è detto che io abbia immesso a mercato un'operazione corretta quindi qui probabilmente spero di vedere un rimbalzo e di poter vedere di nuovo toccare quest'area qua che ho disegnato con Fibonacci ve la faccio vedere ve la faccio vedere questa volta dall'alto verso il basso e guardate da 38,2 a 61,8 ma io l'ho segnato su quest'area qua perché c'è l'incrocio con la media a 200 periodi molto bene andiamo a vedere un attimo bitcoin bitcoin ha rotto la resistenza al supporto a 9.300 ed è andata a posizionarsi adesso a 900 staremo a vedere se questo supporto sarà abbastanza questa in realtà possiamo scusate questa quota qua se sentite delle voci in sottofondo sono i miei cegli che purtroppo sono a casa proprio per il coronavirus quindi scusate i rumori in sottofondo non è semplice fare video quando c'è a casa sono tutti a casa e guardate qua 9.100 è esattamente questo livello qua guardate quante volte l'ha toccato una, due, tre, quattro, cinque c'è tornato adesso quindi anche 9.100 può essere considerato un supporto vedete? vediamo se da qua adesso rimbalzerà e tornerà verso l'alto nel frattempo stamattina io ho tracciato questa riga discendente rossa perché il trend in questo momento sembra essersi invertito ok? da questo trend verde che avevo segnato qualche settimana fa qualche giorno fa anzi da qualche settimana fa a questo trend qua vedremo se ci tornerà indietro per il momento è tutto ragazzi se ci sono dubbi o domande la chiedete pure se vi è piaciuto il video mettete un like se iscrivetevi al canale e come sempre continuate a seguirmi stay tuned and finger crossed insieme a tutti